Anticipazioni Beautiful, trama puntate, martedì, 5 luglio 2022. Alla Forrester Creations, Brooke spende dure parole per Queen. Zoe la difende e, quando apprende della crisi, tra la donna ed Eric, resta malissimo. Crede che la designer non aspetti altro, che il perdono di Eric, per aver macchinato contro Ridge. La Logan, però, non è d'accordo e la invita, a stare alla larga da quella donna. Successivamente, la modella le confida di avere in mente una sorpresa, per Carter e di non vedere l'ora di renderlo felice. Brooke, però, non crede che sia una buona idea. Queen, dopo essersi chiarita con Eric adducendo, una scusa credibile, si reca da Carter. Ma, la passione ha di nuovo la meglio. La designer cerca di resistere e sollecita il Walton, a perdonare Zoe per il suo errore con Zende. Poi gli tocca il viso e gli rivela di averla fatta sentire, di nuovo bella ed attraente. Carter la guarda intensamente e la porta a letto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.